Alessandro Sianni Divertente e commedia la seconda volta non si scorda mai Anche frutta arzetta è più pericolosa Sì, è molto stile, molta simpatia Sì, molto complicità I fotografi scattano a non finire perché la ragazza merita E incarna nell'immaginario di molti il sogno proibito per una notte very hot Sono ancora viva, ho riuscita a sopportarlo durante il film Anche dopo non è stato facile Però, no, scherzo Alessandro, lavorare con Alessandro ci mancherebbe Magari lavorare sempre con persone così divertenti Sono trovata molto bene Ti sta parlando di un altro progetto però non è cinematografico Forse finalmente riusciamo a fare una cosa che volevamo fare Bambino Andiamo a bevere insieme Ciao Ghost News Non siete cattivi con me, mi raccomando